Venerdì 2 novembre 2018, benvenuti su CIPER TV, vediamo subito la parte di forza di oggi dove avremo 5 set con 3 push jerk, 3 overhead squat, 3 squat snatch e 1 arm dumbbell aumentando il peso a ogni giro. Per quanto riguarda il ruolo invece sono 5 round con 21 air squat abbastanza semplici fino a qui, 15 o 10 chest to bar e 9 alternating dumbbell snatch. Come al solito i carichi sulla grafica qui di fronte, la settimana è chiusa, buon weekend a tutti, ci rivediamo lunedì e domani con l'intervista della settimana.